La violenza, la corruzione, il traffico di droghe e il disprezzo per la dignità della persona sono purtroppo realtà drammatiche che sfigurano il Messico, ma non sono sistemi inamovibili, non bisogna rassegnarsi. Il quinto giorno del suo dodicesimo viaggio apostolico Papa Francesco lo ha trascorso a Morelia. La mattina nello stadio venustiano Carranza ha celebrato la messa con i sacerdoti, le religiose e i religiosi consacrati e seminaristi, ricordando la figura del primo vescovo di Michoacan, Vasco de Chiroga, un evangelizzatore conosciuto anche come lo spagnolo che si fece indio. Una delle armi preferite del demonio, ha detto Papa Francesco, è la rassegnazione che non soltanto ci spaventa ma ci chiude nelle nostre sacrestie e apparenti sicurezze. Non solo ci impedisce di progettare ma ci impedisce di rischiare e trasformare le cose. E la voglia di trasformare il futuro del paese, contrastando le organizzazioni criminali che seminano il terrore, è apparsa evidente all'incontro con i giovani nello stadio Morelos y Pavón. A loro il pontefice ha indicato il figlio di Dio come unica sorgente di speranza e ha chiesto di non perdere l'incanto di sognare, di rialzarsi dopo ogni caduta, di promuovere la terapia dell'ascolto. Voi siete la ricchezza del Messico, ha concluso Papa Francesco. Vi chiedo di non lasciarvi escludere, di non lasciarvi disprezzare, di non lasciarvi trattare come merce. Gesù mai ci inviterebbe ad essere sicari, ma ci chiama discepoli. Egli mai ci manderebbe a morire, ma tutto in Lui è invito alla vita. Una vita in famiglia, una vita in comunità. Una famiglia e una comunità a favore della società. Mercoledì il pontefice ha raggiunto Ciudad de Suarez, secondo alcune statistiche una delle città più violenti al mondo, con le sue 950 bande armate che alimentano il narcotraffico. La località, situata sulle rive del Rio Grande, è inoltre tristemente nota per le migliaia di donne scomparse. Ed è proprio da questo scenario drammatico che Papa Bergoglio è voluto partire rivolgendosi ai detenuti del carcere S.R.S.O. perché il problema della sicurezza non si risolve solamente incarcerando, ma inizia con la frequenza alla scuola dei bambini e un lavoro degno per le famiglie. La misericordia ci ricorda che il reinserimento non comincia qui, tra queste pareti, ma che comincia prima, fuori, nelle vie della città. Il reinserimento o la riabilitazione comincia creando un sistema che potremmo chiamare di salute sociale. Al Collegio de Bacilleres, incontrando i rappresentanti del mondo del lavoro, il Pontefice ha rimarcato che oggi non ci si può permettere il lusso di tagliare qualsiasi possibilità di incontro, di discussione, di confronto, perché quando il bene comune è piegato al servizio del profitto e il capitale è l'unico guadagno possibile, si favorisce l'esclusione. Il migliore investimento aggiunto è quello di creare opportunità. Dio chiederà conto agli schiavisti dei nostri giorni e noi dobbiamo fare tutto il possibile, perché queste situazioni non si verifichino più. Nel pomeriggio di mercoledì Papa Bergoglio ha celebrato la messa nell'area fieristica di Ciutade Juárez, su un altare posto a circa 80 metri dalla linea di frontiera internazionale tra Messico e Stati Uniti. Qui il Pontefice ha ricordato le migliaia di persone che cercano solo una vita migliore, soprattutto i giovani, carne da macello, e finiscono poi drammaticamente schiavizzati, sequestrati, soggetti a distorsione, oggetto di commercio del transito umano. Questa tragedia umana che la migrazione forzata rappresenta al giorno d'oggi è un fenomeno globale. Questa crisi che si può misurare in cifre, noi vogliamo misurarla con nomi, storie, famiglie. Sono fratelli e sorelle che partono, spinti dalla povertà e dalla violenza, dal narcotraffico e dal crimine organizzato. Al termine della celebrazione Papa Francesco ha ringraziato quanti in vario modo hanno partecipato all'organizzazione di questo pellegrinaggio. La notte ci può sembrare enorme e molto scura, ha detto, ma in questi giorni ho potuto constatare che in questo popolo esistono tante luci che annunciano speranza.